Quella è mia sorella. È molto bellina? No, è bellissima. Sì, hai ragione. Tengamo se vogliamo in manacchia. Sì, lo chiediamo. Quanti vuoi? Chi è più brava a fare voi due? Lei. È magnifica. Una specie di vulcano. Un gancho... Un gancho. Un gancho con un gancho. Grazie a tutti.